Ciao e benvenuti al terzo appuntamento con il Museo del Vicino Oriente, Egitto e Mediterraneo della Sapienza di Roma. Questa volta il nostro viaggio virtuale ci condurrà in Egitto, dove la storia dei reperti e dei loro ritrovamenti si intreccia strettamente con quella della nascita del museo. Fu infatti durante gli anni Sessanta che il professor Sergio Donadoni si recò in Egitto per effettuare degli scavi di salvataggio in seguito alla costruzione della diga di Assuan. Ed è grazie all'impegno profuso in questa occasione che la Repubblica Araba d'Egitto concesse di portare in Italia il corpus di reperti oggi esposti al museo e dei quali vi parleremo. Vi condurremo oggi nel sito di Antinue, luogo di fondazione da parte di Adriano nel 130 d.C. della città di Antinopolis, in memoria del suo favorito antino morto affogato nel Nilo, sulla sponda orientale del grande fiume dove già Rames II aveva eretto il tempio al dio Amon, e area in cui sorge il moderno villaggio di Sheikh Abade, a pochi chilometri a sud di Ermopoli. Il sito è frequentato già dal periodo predinastico, entro l'area di diffusione della cosiddetta cultura Nakada, come testimoniato dalla necropoli di età predinastica scoperta nella seconda metà degli anni Sessanta. Durante le quattro campagne di scavo tenute tra il 1965 ed il 1968 ad Antinue, vennero portate alla luce, grazie ad un sondaggio a sud del tempio di Ramesse II, 13 tombe. Parzialmente danneggiati dai lavori di costruzione del tempio che le sovrastava, le sepolture erano di forma o voidale o rettangolare con rivestimento in mattoni crudi. Il defunto era posto contratto e nella maggior parte dei casi aveva la testa rivolta verso est. La struttura di queste tombe, per quanto simile a quelle rinvenute in altre necropoli del periodo, come quella di Tamit, mostra comunque delle tecniche diverse, più complesse, che colloca la necropoli al periodo compreso tra il 3300 ed il 3000 avanti Cristo, definito Nakada III. I corredi restituitici sono piuttosto ricchi e composti da vasellame e monili utilizzati per vari scopi. Basi cilindrici, comprese ondulate laterali, alcuni di questi con decorazioni a losanghe dipinte in rosso scuro. Altri, ingobbiati di rosso e con decorazione incisa sotto il bordo, erano impiegati per contenere liquidi. Giarette con orlo arrotondato per sedimenti e granaglie. Infine coppette, palette per il belletto a forma di scudo, quadrangolari o a forma di gazzella, erano utilizzate per fantumare e polverizzare i pigmenti. Non mancano inoltre basi miniaturistici incalcite, perle e vaghi in cornole e conchiglia. Il rituale di sepoltura rivela una grande attenzione alla ritualità ed al simbolismo. Il corpo è deposto accovacciato quasi ad imitare la posizione assunta durante il sonno e la testa è rivolta ad est o ad ovest in direzione degli astri o più propriamente associata all'alba ed al tramonto. Dunque anche il sito di Antinue, rivela una sovrapposizione di civiltà che se da un lato ci fa apprezzare la bellezza stessa ed il valore storico dei reperti osservabili oggi nel museo, dall'altro ci mostra chiaramente come un singolo luogo possa racchiudere più fasi culturali e materiali e come queste riescano ad arricchire e ricostruire una grande porzione della storia dell'uomo. Per maggiori informazioni o per qualsiasi curiosità non esitate a contattarci tramite mail o sui nostri canali social. Grazie per l'attenzione.